Anche quest'anno cerchiamo di dare il nostro contributo per sensibilizzare sia gli alunni delle scuole sia i cittadini ad un uso consapevole di questa preziosissima risorsa che, a differenza di quello che si pensa, non è infinita. E da qualche anno su questo tema la nostra amministrazione ha cercato di dare un contributo importante, chiaramente a livello locale e nel nostro piccolo. Questa mattina io e Laura Machini, il vice sindaco, siamo andate nelle scuole primarie, in particolare nelle classi prime alle quali abbiamo consegnato tutti gli alunni e le alunne una piccola pergamena per riconoscere loro che hanno contribuito a cercare di essere più consapevoli e ad avere comportamenti che speriamo in futuro siano sempre più incisivi sull'uso dell'acqua. Cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Io dico sempre nel nostro piccolo. Innanzitutto, da qualche anno abbiamo iniziato ad installare sul nostro territorio le casette dell'acqua. Ne abbiamo installate tre, a Babucce, qui a Padiglione e a Tavuglia. Vengono utilizzate abbastanza, soprattutto chiaramente dove ci sono più cittadini, Padiglione e Tavuglia. L'installazione delle casette dell'acqua sul territorio di Tavuglia è un intervento che proseguirà anche nel 2022. Infatti, entro l'anno verrà installata un'altra casetta dell'acqua nel territorio di Rosalzo. All'interno delle scuole, in tutte le scuole del nostro territorio, abbiamo installato degli erogatori. La nostra presenza all'interno delle scuole primarie è volta a far capire, a consapevolizzare i bambini che l'acqua del rubinetto è sana e si può utilizzare per bere tranquillamente. Qualche anno fa, sempre a tutti i ragazzi delle scuole, abbiamo già distribuito tante borracce, proprio per poterle riempire e utilizzarle ovunque, in palestra, in parrocchia, ovunque al parco. Si prende l'acqua dalle casette dell'acqua, dagli erogatori, dal rubinetto di casa e la si porta con sé. L'Italia è uno dei paesi dove siamo tra gli ultimi a fare uso di acqua del rubinetto. Nel mondo è un comportamento normale, quotidiano, costante. Noi invece continuiamo a comprare acqua in bottiglia e chiaramente ognuno è libero di fare ciò che vuole, però il Comune di Tavuglia in questi anni ha contribuito anche qui a una riduzione notevole di emissioni di CO2. Perché il fatto di poter utilizzare acqua del rubinetto nelle scuole e alle casette dell'acqua porta a non utilizzare bottiglie in plastica e porta quindi a una riduzione di emissioni di CO2, uso di petrolio e tutto ciò che ne consegue. Quindi noi cerchiamo di fare la nostra parte, cerchiamo di consapevolizzare tutti.